Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come cambiare risoluzione a Starfield ovviamente se giocate in Full HD e non vi fa cambiare la risoluzione del gioco per chi è bloccata quella risoluzione 1920x1080 quindi per risolvere questa cosa bisogna andare sul tasto destro sul desktop e aprire così il pannello di controllo di Nvidia questo è il pannello di controllo di Nvidia, come puoi vedere io su PC 1920x1080 scendo fino a giù fino a trovare la risoluzione 1280x720 faccio applica e non mi resta che aprire Starfield se vado su opzioni, video, come puoi vedere la dimensione della finestra è diventata 1280x720 senza quel pannello di controllo io non potevo cambiare risoluzione al gioco me la bloccava sempre a 1920x1080 se questo video ti è stato utilissimo su come cambiare risoluzione al gioco iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo in un prossimo tutorial ciao